Romanzi, saggi, antiche riviste e libri rari su Napoli e la sua storia saranno presto online, consultabili comodamente con un click. Una rivoluzione digitale resa possibile dalla convenzione stipulata tra Google Books ed il Ministero per i beni e le attività culturali, con l'intento di preservare parte delle inestimabili collezioni custodite e diffondere allo stesso tempo la nostra cultura nel mondo. Insomma, buona parte dell'immenso patrimonio librario conservato nella Biblioteca Nazionale di Piazza Plebiscito si trasferisce in rete e sarà fruibile gratuitamente da qualsiasi PC. Il progetto ambizioso si intitola Biblioteca Italiana e dopo Roma e Firenze ha coinvolto anche Napoli, che banta una raccolta di oltre 2 milioni di volumi nella pubblicazione di migliaia di opere libere dal copyright. Google è utilissimo ed è importantissimo che Napoli partecipi a questo progetto. Però è anche importante frequentare quella che è una delle più belle biblioteche d'Italia. Napoli ha per esempio i papiri, i vercolano, i manoscritti straordinari ed è un sito che è particolarmente bello, dove è bello stare. I volumi interessati, tutti pubblicati entro la fine dell'Ottocento, sono catalogati presso la Biblioteca Vittorio Emanuele III, che sin dai primi anni 90 offre servizi di archiviazione telematica e conta ad oggi 130 strutture collegate. Successivamente i testi sono inviati al centro di digitalizzazione Google per la scansione e l'inserimento in rete. I primi libri saranno online tra il 2012 e il 2013 e con una cadenza di 5 mila al mese. Questo era il sogno degli umanisti, il sogno degli umanisti di riuscire a raccogliere tutto lo scibile. Quindi la tecnologia moderna, quella di Google, rende possibile la realizzazione di un sogno antichissimo, che era il sogno degli umanisti di creare la Biblioteca Universale.